La società Latte Dolce e la S Roma Calcio organizzano un raduno per giovani calciatori sotto legida del responsabile tecnico giallorosso Massimo Tarantino. La società sassarese, che da sempre scommette sui giovani, privilegia queste manifestazioni. Il raduno Open si svolgerà lunedì 10 aprile a partire dagli ore 15 presso il sintetico di Via Cilea ed è riservato ai giovani calciatori nati tra il 1 gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2004. Marco Bottegoni, responsabile tecnico del settore bianco-celeste, spiega la filosofia del sodalizio cittadino e si augura che altri giovani possano provare la ribalta nazionale, come già fatto proprio in giallorosso da due colonne della prima squadra, Ivan Del Rio e Simone Ravot. Una grande opportunità per conoscere e far crescere i talenti calcistici del prossimo futuro.